Andiamo, è l'ora di lavorare! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Andiamo qui a fare il nostro scambio di rimorchi. Andiamo qui a mettere l'olio. Andiamo qui a mettere l'olio. Andiamo qui a mettere l'olio. Il nostro carico si parte. Andiamo qui a mettere l'olio. 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 battipaglia, se mi ricordo bene, il loro sonno. è già occupato lì là. non va bene. Loro sono odiati pure qua. non mi piace a nessuno. sarà in video o sarà perché fanno tanti danni? questo è una cosa dell'inglese che mi fa imbestialire. perché loro quando vanno a fare diesel hanno l'abitudine di andare dentro, lasciano i camion qui alla pompa, vanno dentro e fanno i loro porci comodi. che praticamente stanno lì, mangiano i panini, guardano un po' la tv, prendono il caffè e lasciano il camion qua. A volte uno ha un po' di fretta e tocca aspettare questi altri là dentro. Fanno sempre, 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 sempre. metto i camion qui, fanno i loro diesel e poi ando la dentro, prendono il caffè e tutto il resto. ora tanto tempo abonda Santa Madonnina pazienza ci vuole Dai Doveva bastare Andiamo a controllare la card Adesso aspetta sono due da 500 C'è da fare Diesel 1.21 Non mi ricordo bene ma mi sembra che in Italia sia più economico Il diesel 1.21 E rimango qua Pascione, occhio vivo, buona strada Ciao vai Ciao a tutti 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 Grazie a tutti